Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. In questa puntata non mi occuperò né di politica, peraltro deprimente, o di fatti di cronaca, ma piuttosto di storia. La storia di un cognome che mi avvicino perché capita di essere il mio, ma è una storia che, sono abbastanza certo, troverebbe altri spunti interessanti se applicata ai vostri rispettivi cognomi. Nel caso di oggi, anzi ci permette anche di compiere una breve escursione nella letteratura italiana. È una storia che si può definire vera anche senza troppa fantasia e comincia, peraltro anche lei, dal proverbiale, c'era una volta. Infatti inizia appunto nel 967 d.C., quando l'imperatore Ottone di Sassonia concesse al fedele conte Aleramo i diritti feudali sul Monferrato, terra che non richiede introduzioni. Terra altre sì che il Carducci, nella sua famosissima poesia intitolata Piemonte, accomuna con logica sia geografica che poetica, accomuna alcune e dice, cuneo possente e paziente e al vago d'eclivio il dolce mondo vi ridente e l'esultante di Castella e vigne suol Dalleramo. Ma prima di arrivare a Dalleramo dobbiamo chiarire. Ottone fu l'imperatore del sacro romano impero occidentale, nonché un successore nella linea dinastica che iniziò nell'Ottocento con Carlo Magno. Carlo Magno, che era il primo imperatore e fondatore riconosciuto del sistema feudale. Un feudo era costituito, era un agglomerato di città o anche di agglomerati agricoli e varie terre. L'equivalente moderno più vicino ad un feudo si chiamerebbe un franchising, ma un franchising è stato acquistato attraverso una mega corporazione. Un feudo invece era stato guadagnato per merito o per coraggio in varie guerre, anche se a volte c'era da discutere se si trattasse di merito o di coraggio. Un signore feudale aveva la completa giurisdizione e il controllo del feudo, che tuttavia gestiva in nome dell'imperatore. I successori del signore ereditavano il feudo a meno che ribellione o guerre o altri sconvolgimenti non alterassero drammaticamente il panorama politico. Un signore feudale aveva titolo, in questo caso il termine titolo si trasforma in diritto di possessione, possessione di beni conferiti dall'imperatore e avrebbe fatto del titolo questo feudatario, avrebbe fatto del titolo il suo nome. Da qui il nome portava la prova del titolo alla terra e per inferenza al suo rango nobile. Per esempio, quando chi ancora studiasse la storia si imbattesse nel Camillo Benso, conte di Cavour, lo troverà a volte nominato come il Cavour, potente ricordo linguistico di ere e di cose passate. Anche principi, duchi, marchesi e conti, appunto come il Cavour, portavano il nome della terra che era o era stato il feudo originale dei rispettivi antenati. Il Monferrato è una regione di colline, oggi conosciuta, come sappiamo, anche in America, soprattutto per i suoi superbi vini. Comprende il territorio compreso tra l'Appennino a sud e il fiume Po a nord. A est e a ovest il Monferrato termina alla fine delle colline. È una terra di bellezza, possiamo dire, bellezza tranquilla ma ineguagliabile, un po' come il paesaggio che immaginavamo da bambini quando costruivamo l'ambiente di leggente nel teatro della nostra mente. Anche il nome Monferrato affonda le sue radici in una leggenda. Infatti, Aleramo, ricevuto il feudo, cavalcò, cavalcò il suo cavallo il più velocemente possibile per circondare per tutte le terre di cui era diventato padrone. Ma durante la corsa il suo cavallo perse una scarpa, uno zoccolo, e con operazione improvvisata, in America direbbero do it yourself, Aleramo utilizzò un mattone, che in dialetto monferrino è mun, per fissare la scarpa del cavallo, che in dialetto monferrino si dice fre e si riferisce appunto alla calzatura del cavallo. Di qui mun fre o cavallo, se si vuole cavallo rifatto con un mattone. E in italiano erano quindi Monferrato. Quattro generazioni dopo, Guglielmo il Vecchio, Marchese del Monferrato, era un mini imperialista anteliteram e cercò di ampliare la portata del suo dominio. Nel caso, forse oggi più che imperialismo lo ridefiniremmo una diversificazione. E in epoca mediovale la diversificazione si verificava attraverso matrimoni e alleanze. Guglielmo il Vecchio sposò Giuditta, almeno ritengo che non fosse poi troppo vecchio per sposarsi, e Giuditta a sua volta era la zia dell'imperatore tedesco Federico Barbarossa. Quest'ultimo, come sappiamo, figura di spicco nella storia d'Italia e persino in tempi più moderni e minacciosi, come sappiamo, ricorderemo. Hitler usò Barbarossa come nome in codice per l'invasione della Russia. Guglielmo il Vecchio ebbe quattro figli. L'undicesimo e il dodicesimo secolo sono i tempi delle crociate, e i suoi figli si interessarono all'Oriente. E due di loro, Guglielmo Lunga Spada e Corrado, l'altro Corrado, divennero col tempo re di Genusalemme. Ma, come direbbe Shakespeare, un'easy lies the head that wears a crown. La testa incoronata non ha tempo facile. Guglielmo Lunga Spada fu avvelenato dalla moglie poco dopo l'incoronazione. Più tardi, Corrado, il fratello, sposò sua cognata Isabella d'Anjou, ereditiera del regno di Gerusalemme. Gossip, come si dice oggi dicerie, ora dicerie come si dicebbe oggi gossip, al momento definirono questo matrimonio scandaloso perché entrambi erano già sposati a qualcun altro e il divorzio era secoli di distanza da diventare qualcosa, di diventare crutine. Ma storicamente parlando si tratta o si tratterebbe di quisquiglie per dirla con Totò. Anche Corrado fu assassinato poco dopo essere diventato re. Il terzo fratello, Bonifacio I, divenne re di Salonicco in Macedonia e fu a sua volta brutalmente assassinato dai bulgari. Il quarto, Ranieri d'Aleramo, ci interessa di più. Sposò Maria, figlia dell'imperatore romano d'Oriente, Manuele Comneno, la sposò a Costantinopoli nel 1220. E da lui si passa al XIV secolo, quando il ramo, al ramo della famiglia, rimane senza eredi maschi. Il titolo del marchesato passa, a causa dei legami matrimoniali precedentemente forgiati, passa a Teodoro I, paleologo. Va ricordato che fino al 1452, la caduta di Costantinopoli, il Medio Oriente era parte del sacro romano impero d'Oriente, con capitale appunto a Costantinopoli. E così avvenne che Teodoro, figlio dell'imperatore romano d'Oriente di Costantinopoli, divenne piemontese, portando con sé e trapiantando in Piemonte un nome molto greco, paleologo. Passano altri due secoli e arriviamo al 1530. Ahimè, come direbbe Shakespeare nel mercante di Venezia, The lottery of my destiny bears me the right of voluntary choosing. La lotteria del mio destino mi impedisce di compiere una scelta volontaria. L'ultimo marchese paleologo ebbe un figlio e una figlia. Il figlio Bonifacio muore a vent'anni cadendo da cavallo e Margherita paleologa, sua sorella, è adesso l'unica ereditiera, ma prevale la vecchia legge salica e solo i discendenti maschi possono ereditare il titolo. E ora, con l'aiuto di quella che Shakespeare chiamerebbe All for a Muse of Fire that would ascend the brightest heaven of invention, un muse del fuoco che ascenderebbe al cielo più alto dell'invenzione, ora spostiamoci di circa 150 anni a sud-est di Mantova, verso i due paesini vicini rispettivamente di Gonzaga e di Moglia. Entrambi furono originariamente costruiti su terreni appartenenti ad un'abbazia benedittina benedittina. Infatti non distante vi è l'imponente abbazia di Polirone, dove nel sud-est mantovano i benedettini nel 1480 avevano ottenuto un charter, come si dice, una concessione, un diritto dall'imperatore per prosciugare certe terre a sud del Po e più o meno nella zona dove oggi nasce, sorge il paese di Moglia. Da qui si deduce che il nome corrisponde a una generalizzazione sia geografica che geomorfica. Le terre erano paludose e in latino terre paludose si esprime con il termine mollia. Ma, e qui mi azzardo un po', rifacendomi alla storia della lingua italiana del Migliorini, la consonante G la fa da regina, come sapete nel dialetto lombardo, che a sua volta ritiene ancora qualche riflesso lontano del linguaggio longobardo. E la G, la G è prominente nel dialetto lombardo, nonché nei toponomi, segrate, gessate, parabbiago, gorlate, eccetera, eccetera. Il limitrofo centro di Gonzaga era invece un villaggio più antico. I benedettini l'avevano chiamata Gonzaga con una estrazione, una diramazione, derivazione, dal nome di una virtù, la modestia. Il latino originale era verecundia, che venne corrotto nel locale verecundiaca o verecundiaca. Poi ne è persa all'inizio vere e la G era più consonante all'italiano longobardo, come ha detto, più consonante della lettera C. Quindi, invece di Cuntiaga, Gonzaga. Nella Bappa, il paese di Moglia è a 3-4 chilometri ad est del paese di Gonzaga. All'inizio dell'undicesimo secolo una famiglia contadina modenese, i Corradi, si trasferirono a Gonzaga. Nel tempo, e possibilmente attraverso i servizi dati al monastero, i Corradi acquisirono più terre e cento anni dopo i Corradi lasciarono il paesello nativo per Mantua e abbandonarono il nome di Corradi per il titolo di Gonzaga, ormai famoso tutto il mondo, persino in America. Una digressione minore per fornire contesto. Il sistema feudale non fu mai instabile e si riferisce in modo molto superficiale all'evoluzione del sistema medioevale. Le città erano centri per il commercio, l'apprendimento, la tecnologia, l'innovazione, per cui le pratiche cittadine e le istituzioni e le leggi erano diverse rispetto al feudo classico con Castello, Castellano, Pontelevatoio, eccetera. Il tutto, a sua volta e nel tempo, fece sì che le città diventassero repubbliche mercantili o città-stato, gradualmente indipendenti dal signore feudale e dal re nella cui terra si ritrovavano. Oggi un processo simile si verifica quando la redditizia sussediaria di un'azienda seccede o a volte prende in consegna la società originale. E tale fu un po' l'origine delle repubbliche libere in Italia. Mantova era una delle tante città-stato. Ma le repubbliche non sono mai state del tutto pubbliche né le democrazie del tutto democratiche. Il potere crede gradualmente a una famiglia, aumentò, e che con le buone recottive riuscì a sconfiggere i concorrenti. Infatti, dopo essersi trasferiti a Mantova, i Gonzaga riuscirono a sconfiggere e annientare l'attuale famiglia regnante che si chiamava dei Bonacolsi e la sconfissero nel 1328. I Bonacolsi lasciarono uno dei bei palazzi nella bellissima piazza Sordello a Mantova, quelli che la conoscono, e di regola i Bonacolsi, per la cronaca o aneddoticamente se volete, i Bonacolsi erano piuttosto grassocci, come lo testimoniano i loro nomi, per esempio Gamba Grossa, che è Gamba Grande, Bardellone, Borsa Grande, Butirrone, Grande Grumo di Burro, e altri. Mantova passò allora ai Gonzaga, che gradualmente vi prosperarono. L'imperatore Carlo V, famosissimo, li elevò al rango di duchi nel 1530, e questo fu il picco per la famiglia Gonzaga. C'erano cardinali Gonzaga, capitani Gonzaga, generali Gonzaga, un Gonzaga divenne persino un santo, e attraverso San Luis Gonzaga, San Luigi Gonzaga, e questo è il tramite attraverso il quale il nome familiare negli Stati Uniti. Le arti fiorirono, artisti e poeti furono attratti a Mantova, specialmente attraverso lo sponsorship, il mecenatismo della duchessa Isabella, la prima donna del rinascimento italiano. Isabella amava le arti e sponsorizzò, tra l'altro, Mantegna e Perugino, le piaceva la poesia, l'astrologia, i nani e i gatti. Ha selezionato i migliori gatti provenienti da vari conventi e ha poi avuto persino un gatto spedito direttamente a lei da Damasco, in Siria. E' quando questo gatto morì, che si chiamava tra l'altro Martino o Martin, quando morì la duchessa pianse a lungo. Isabella ebbe un figlio, Federico II, che all'età di otto anni si sposò, in absenza naturalmente, con la poco più anziana Margherita, paleologa del Monferrato, che abbiamo conosciuto poco fa. Quando Federico II divenne maggiorenne, si dimenticò presto di Margherita e sperando, usando una metafora in un raccolto più abbondante, sposò Giulia, una parente dell'imperatore Carlo V. Poco dopo, tuttavia, Bonifacio, l'erede del Marchesato del Monferrato, morì cadendo da cavallo. Federico II ora ebbe un cambiamento di mente o di opinione, riuscì a farsi annullare il matrimonio da Papa Clemente VII e si risposò con Margherita, acquisendo così il titolo aggiuntivo di Marchese del Monferrato. Federico II si trasferì adesso in Monferrato per organizzare la transizione nel governo. In sintonia con i tempi, Federico II si dimostrò, purtroppo, un sovrano spietato e crudele. Gli abitanti di Casale, la capitale del Monferrato, avevano fino a quel momento goduto di una notevole libertà e di una vasta autogestione. Federico annullò tutti i diritti, impose pesanti tasse, bandì e uccise i cittadini più importanti dopo una ribellione infruttuosa e confiscò le terre. Federico aveva portato con sé una ciurma di mantovani ed è in questo periodo che il cognome moglia appare nel Monferrato. Ma perché ancora oggi la maggior parte dei mogli sono in Piemonte, Emilia e Liguria e non ci sono dei mogli a moglia nel paese di di intorni? La risposta non è certa, perché la storia non ha mai certezze assolute. Ma ha a che fare probabilmente con come si è evoluto l'uso dei nomi. Fino alla controriforme e al concilio di Trento del 1534 al 1550 non vi era alcuna documentazione biografica coerente. Nelle piccole città tutti si conoscevano per nome o per nome seguito dal patronimico, ad esempio abbiamo Dante Alighieri che significa Dante figlio di Alighiero e così via. Col tempo e quando il nome non era più sufficiente per l'identificazione, il patronimico divenne un cognome proprio. Ma anche il patronimico non era abbastanza. Proprio come oggi con i telefoni abbiamo bisogno di più codici di zona, così con l'aumento della popolazione i nostri antenati avevano bisogno di più, diciamo, codici di nome. Altre due fonti di cognomi erano la professione e il luogo da cui il cittadino proveniva, che chiaramente se era un forestiero. Così, direi probabilmente, l'antico nottaio che registrò i terreni confiscati e poi assegnati ai mogli del Monferrato, ha permesso di identificare i mogli da quel momento in poi. Ironia della sorte, il Monferrato si rivelò per Igonzaga più una maledizione che una benedizione. Cento anni dopo, in un complesso affaraccio che coinvolse la successione al ducato mantovano, l'erede più legittimo era legato alla corte di Francia, attraverso il matrimonio con una principessa del Monferrato. Ma questo era inaccettabile per la Spagna e per l'imperatore, i quali mandarono un esercito di luterani attraverso le Alpi per assediare Mantova. Mantova fu saccheggiata nel 1630 con la sfortunata ma consueta carneficina e spargimento di sangue. E qui la letteratura si allinea con la storia o viceversa. Fu questo esercito dei Lanznecht a portare in Italia la devastante peste del 1630, mirabilmente descritta dal Manzoni nei promessi sposi. E qui mi permetto di includere parte della conversazione che ha luogo al pranzo offerto da Don Rodrigo ai suoi parassiti, inclusi il malvagio cugino Conte Attilio, il dottor Azzecca Garbugli, il podestà del contato cui poi si aggiunge Fra Cristoforo. Fra Cristoforo arriva appunto il momento quando la conversazione verge sulla preannunciata e prossima invasione dei Lanznecht a necchi comandati dal generale Wallenstein. E qui si instaura un breve dibattito tra il saccente e vanitoso Podestà e l'arrogante cugino Attilio, su quale è la corretta pronuncia di Wallenstein. E lascio la parola al Manzoni. Cugino Attilio. La cosa a cui si deve pensare sono molte, signor mio, sa lei per esempio fino a che segno l'imperatore passa ora a fidarsi di quel suo principe di Valdistano o di Valistai o come lo chiamano? E se? Il podestà. Il nome legittimo in lingua alemanna è Wallenstein, come l'ho sentito profferire più volte dal nostro signor Castellado spagnolo, ma stia di buon animo che, al che Gugino Attilio dice mi vuole insegnare, riprendeva il conti, cito direttamente da Manzoni, ma don Rodrigo gli diede d'occhio per fargli intendere che per amor suo cessasse di contraddirlo. Il conte tacque e il podestà, come un bastimento disimbrogliato da una zecca, continuò a vele gonfie il corso della sua eloquenza. Fine della citazione manzoniana. Ritornando a Mantova, ai Gonzaga e anche ai Moglia adesso, come Shakespeare fa dire a Ettore nella tragedia Troilus in Cressida, The end crowns all, and that old common arbitrator time will one day end it, che si può tradurre, la fine fa da corona a tutto e quell'arbitro inesorabile il tempo, un giorno porrà fine a tutto. L'ultimo duco a Gonzaga di Mantova fu Ferdinando Carlo, che trasporse la maggior parte del suo tempo a Venezia, inseguendo le donne e perdendo quasi tutto giocando a carte. Al che, l'imperatore austriaco, usando il suo diritto di ancora sovrano supremo dell'impero romano d'Occidente, dichiarò ufficialmente Ferdinando Carlo, un criminale inadatto a essere il duca di Mantova. Mantova quindi passò al dominio diretto austriaco nel 1708. In precedenza i Gonzaga avevano perso il Monferrato, che divenne parte del Piemonte e del Regno Sabaudo. Quindi, per riassumere, uno, un soldato intraprendente, aleramo, diventa un signore feudale. Due, uno dei suoi discendenti si sposa con la famiglia dell'imperatore romano d'Oriente, come abbiamo visto, e quando non ci sono i re di maschi, agli alerami, i paleologhi, o paleologi forse, non so, acquisiscono il titolo del Marchesano. Tre, quando a loro volte i paleologhi rimangono senza discendenza maschile, i Gonzaga acquisiscono il Monferrato e i Gonzaga portano in Monferrato la loro squadra di operai e o dirigenti, chissà. Quattro, almeno uno della squadra era originario del paese di Imoglia e prende Imoglia come cognome. Cinque, a causa della politica o della loro cattiva gestione, i Gonzaga perdono il Monferrato, che viene annesso al Piemonte e alla Corona Sabauda. Nella tragedia di Macbeth, il protagonista Macbeth chiede alle streghe se possono prevedere il suo futuro e pone così la domanda. che si può tradurre se potete esaminare i semi del tempo e decidere quale darà frutti e quale no. Da questi versi, con un volo un po' pindarico, anche noi, anche io, abbiamo investigato i semi del tempo e cercato di identificare quale granello sarebbe cresciuto e quale no. No. E infine, come Imoglia, originari del Mantevano, abbiamo visto come siano diventati piemontesi. Ma c'è un post scriptum un po' prosaico a questa avventura, un po' storica e un po' parzialmente biografica. Prima di tutto ho tenuto molte di queste informazioni a proposito del paese di Imoglia. Anni fa, dal signor Mazzola, maestro in pensione a Punta la moglie. Il signor Mazzola ha scritto addirittura cinque libri a proposito del paese di moglie e della sua storia. Persino uno sulla storia della squadra di calcio locale, figuriamoci, che in un anno che non ricordo, arrivò persino a far parte della Serie C. Ma c'è anche un altro aneddoto personale che riguarda le mie due visite al suddetto paese. La prima volta vi arrivai in una sera del tardo autunno, cupa e nebbiosa, che lì per lì mi ha fatto ricordare la notte dell'apparizione del fantasma al senore in Danimarca, nell'Amleto. Ma la seconda volta vi giunsi attraverso, passando attraverso Mantua. E all'altezza di un semaforo mi sono fermato immediatamente dietro a un camion di quelli con il cassone alto e chiuso per trasporti che devono essere protetti dall'ambiente esterno. Sul retro del camion prominente era la scritta «I migliori suini vengono da moglie». Di per sé la notificazione mi ha lasciato indifferente, anche perché sono vegetariano da decenni. Tuttavia, al momento ritieni l'annuncio un segno dei tempi, in cui l'economia è il profitto, forse per inevitabile contingenza o necessità, in cui economia e profitto prevalgono su ogni altro tipo di distinzione. Tra l'altro, moglie fu uno dei paesi gravemente colpiti dal terremoto di alcuni anni fa, ma si sta riprendendo con volontà e con solerzia. Questo è tutto, grazie per l'ascolto e, come sempre, may all the number of the stars give light to your fairway, che il numero infinito delle stelle illumini il vostro cammino. Buonasera.